E adesso la pagina dedicata alla guerra in Ucraina. Ci colleghiamo subito con Leopoli. Siamo proprio nella parte vicino al confine con la Polonia. Leopoli è una città di 700 mila abitanti, a 70 chilometri circa dalla frontiera con appunto la Polonia. Vedete collegato con noi Alberto Capannini, responsabile di Operazione Colomba, che è il corpo non violento di pace della comunità Papa Giovanni XXIII. Allora, buonasera Alberto, grazie per questo collegamento. Collegamento che ci serve per capire innanzitutto qual è la situazione in questo momento a Leopoli. Leopoli è stata definita la capitale occidentale dell'Ucraina. Lì sono state trasferite praticamente le ambasciate. Ancora la guerra, diciamo, si sente soltanto l'odore. Mi confermi? Per il resto siete ancora abbastanza, tra virgolette, protetti dalle armi, anche se gli effetti li state vedendo tutti quanti. Per esempio, mi pare che sia, non so se me lo confermi, un campo profughi e ce l'ha aperto quello che si trova appunto nella città in cui ti trovi. È un punto di, sì, è una città molto grande, molto bella. È un punto di raccolta di profughi da tutto l'est del paese. E da qui le persone vanno in tutta Europa, in Polonia, in Germania, in Italia. Sono passate forse due milioni e più di persone da qua. Le rimaste sono accolte nelle scuole, nelle palestre. Le scuole sono chiuse per la guerra e per accogliere persone. È una situazione di attesa, quindi le persone aspettano di andarsene, aspettano di sapere notizie sulla guerra, sperano che si fermi. È una situazione di attesa. Di notte suonano diverse volte gli allarmi e le sirene. Sono chiuse per la guerra e le sirene, ho minacce di bombardamento, quindi mi rifugi. Ecco, Alberto, intanto ieri sulla vostra pagina Facebook Operazione Colomba avete pubblicato un video dove, e qui chiedo alla Regione di mandarlo in onda, dove appunto si vedono le centinaia di persone in fila, incolonate proprio. Abbiamo anche l'audio, se lo possiamo sentire, per favore, che appunto sono in fila, in attesa di imbarcarsi. Sono qui alla stazione di Leopoli. Sì, migliaia di persone che vengono da Chio, in attesa, un mare proprio che scappa dalla guerra. Non pensare che proprio guerra è essere umani, non posso, se la guerra le persone se ne vanno. Ecco, come città, come Leopoli in questo momento, la parte, diciamo, o meglio, che notizie vi arrivano a voi dal resto dell'Ucraina? Qual è la situazione? Perché noi qui dai telegiornali italiani, dall'informazione italiana, ci fanno vedere situazioni drammatiche, tragiche, di edifici distrutti, di morti e quant'altro. Ma noi vediamo gli effetti sulle persone. Le persone non possono vivere dove c'è la guerra. Questo già dice lungo sul fatto che la guerra non se la può permettere più nessuno, neanche l'uomo più potente del mondo. Nessuno può fare la guerra. Quindi è un paese che si sta svuotando, rimangono solamente le persone che possano combattere, diventerà forse un enorme campo di battaglia, ma è una follia. Facciamo assolutamente nostro la richiesta del Papa, fermatevi, fermate questa guerra. Non ha nessun senso mettere più morti, fare più vedove, più orfani per risolvere una situazione di convivenza, per quanto complessa, non ha nessun significato e nessuno può fare la guerra. Quindi quello che vediamo sono gli effetti di questa scelta folle di bombardare le città, e bombardare i civili, bombardare scuole, ospedali, cose che purtroppo abbiamo visto fare in Siria, nel silenzio del mondo. Probabilmente qualcuno ha pensato che se nessuno ha detto niente sulla Siria possiamo farlo anche in Europa. C'è un grande sgomento, una grande paura, una grande incredulità rispetto a quello che sta succedendo e le persone scappano. Per fortuna l'accoglienza in questo momento è molto buona in tutta Europa. Ecco, nelle Marche, lo sentiremo tra poco con il nostro ospite, l'assessore regionale della protezione civile Stefano Guzzi, che ci sta raggiungendo in studio. Qui già ci sono più di 2.000 persone, sono più di 2.000 persone che dall'Ucraina sono state accolte e dovrebbero arrivarne altre. Tu sei di Rimini in realtà, vivi con la tua famiglia Rimini, anche se poi giri il mondo e adesso ti trovi lì appunto a Leopoli. Che cosa possiamo fare noi per voi, al di là della preghiera, al di là degli aiuti? Stiamo pensando di accompagnare, stiamo facendo tre cose. La prima è cominciare a vivere qui con le persone perché da fuori non si capisce nulla. Stare vicino alle persone che conoscono il conflitto e quelli che lo conoscono sono quelli che lo subiscono e non quelli che lo fanno, che non si rendono conto davvero di quello che fanno. La seconda cosa è che stiamo provando a far uscire le persone in situazioni di difficoltà più forti, quindi persone con malattie, con handicap o che hanno perso la famiglia. Quindi se ci sono disponibili all'accoglienza, benissimo. La terza cosa è che abbiamo pensato di fare una specie di esodo al contrario, di fare una delegazione di società civile, di politici, di rappresentanti, di associazioni che entrano dentro il conflitto per dire con la propria presenza, con la propria persona che bisogna fermare questa follia. Non sappiamo come, ma sicuramente la situazione di attendismo, di addirittura vendere armi o schierarsi dalla parte di chi sta in questo momento aggredendo, non è una situazione che può portare niente di buono. Si sta compiendo un crimine e lo si sta compiendo sull'orlo di un abisso, quindi bisogna fermare assolutamente quello che sta succedendo. Alberto, secondo te come andrà a finire? È la cosa che chiedo sempre alle persone, cosa vedi per il futuro. Una persona oggi mi ha risposto, io penso, voglio guardare in maniera positiva al futuro, non voglio credere a quello di negativo che vedo attorno a me, voglio pensare che si potrà ricostruire, che ci sarà un futuro molto positivo. Diciamo che ci sono due tipi di futuro, diceva, parlo dall'olio, c'è un futuro fatto di previsioni e un futuro fatto di decisioni. Quello di previsioni è molto fosco, quello di decisioni, cioè di scelta personale, invece può essere anche molto costruttivo. Diciamo che proviamo a non lasciare sole queste persone, io preferisco pensare a un futuro fatto di decisioni più che di previsioni. Grazie allora ad Alberto Capannini, responsabile di Operazione Colomba, il corpo non violento di pace della comunità Papa Giovanni XXIII, grazie. Buona serata.